Non so se vi ricordate, nel video precedente vi avevo detto che mi era morto il mouse e questo è stata l'unica alternativa disponibile fino ad oggi ma è una figata pazzesca, fa tipo un rumore stupendo e poi è minuscolo cioè è veramente minuscolo mi piace un sacco, bellissimo questo è tipo un mouse che costa qualcosa come 70 euro circa ma io l'ho pagato soltanto 20 perché sono speciale no, non è vero, perché c'è tipo il 2000% di sconto su Amazon e se vi interessa vi lascio il link sotto in descrizione a tal proposito, per usare il mio nuovo bellissimo mouse vi faccio vedere che da oggi ho questa operazione aperta che è sterlina CHF e da aperta più o meno da qua in questo momento ci troviamo qui questi sono i 15 minuti siamo già nettamente in positivo ma vi faccio vedere dove è il target perché è una cosa veramente abnorme che non si vede neanche sulle 4 ore, ne andiamoci conto lo metto sul giornaliero eccolo qua questo è il target e noi siamo qua eccoci sempre sui nostri schermi adesso vi faccio vedere per bene l'operazione di cui parlavo prima che è appunto sterlina CHF perché si dice proprio CHF vi faccio vedere appunto che l'operazione è stata aperta qui che questo è il target ma è un target giornaliero quindi molto molto ampio e che domani è venerdì quindi domani bisognerà decidere se continuare a cioè se lasciare la posizione aperta per il weekend oppure chiuderla in questo momento siamo ampiamente in positivo ma non voglio accontentarmi appunto l'operazione è stata aperta qua e ci troviamo qui questo è stato questo era lo stop che aggiusterò prima di andare a dormire e nulla per quanto riguarda le operazioni di cui vi ho parlato nello scorso video interessanti ci sono sterlina Yen dove vi avevo detto di aspettare la chiusura del giornaliero e vediamo che oggi probabilmente forse chissà vedremo tra qualche ora le candele chiuderanno fuori dalla dalla cumo più che le candele è la lagging scusatemi questo è il target anche questo molto molto ampio operazione invece interessante è il dollaro canadese dollaro vi avevo detto che si poteva pensare ad uno short una volta che le candele avessero rotto la la kijun a ribasso e infatti è quello che sta per avvenire questo è il livello di target purtroppo però che cosa è successo io mi aspettavo una rottura più o meno in questo punto qua in questo momento invece la lagging la troviamo sopra i prezzi quindi poi può essere che vada ad incastrarsi in questo punto qui quindi una buona una buona operazione potrebbe essere entrata a rottura a chiusura soprattutto della candela con target questo livello qui aggiungo un'altra linea così intanto quella la lascio per vedere cosa succede e questo potrebbe essere il target che comunque non è male non è ampio come quello precedente però se andiamo a vedere sui 15 minuti vediamo che tra l'altro questo movimento è stato enorme veramente enorme no? forse non ha molto senso come movimento soprattutto perché troppe candeleri bassiste quindi ci aspettiamo un ritorno quindi no anche questo movimento scartato per questa settimana sono le 22.53 e ho degli aggiornamenti sulle due valute di cui vi parlavo prima la prima appunto è la sterlina yen avevamo detto che se la candela avesse chiuso fuori dal cumo la candela giornaliera questo sarebbe stato il target questo livello qua poche ore fa circa due abbiamo deciso di entrare perché sui 15 minuti c'è stato un taglio a ribasso della della Tenkan per questo motivo ho deciso che non appena i prezzi avessero tagliato a rialzo io sarei entrata questo è avvenuto su questa candela qui alla chiusura di questa e quindi l'entrata è avvenuta in questa zona qua adesso i prezzi si trovano qui e come target invece del giornaliero che si trovava qui quindi molto ampio per arrivare centrodomani abbiamo messo un massimo recente sempre del giornaliero quindi un target più abbordabile soprattutto per quanto riguarda un arco di 24 ore ad ogni modo decideremo sempre domani in caso non arriveremo a target se chiudere l'operazione o tenerla aperta molto probabilmente questa operazione verrà chiusa perché il target non è neanche il vero e proprio target a cui puntavamo aggiornamenti anche sul dollaro canadese dollaro qui l'operazione non l'ho aperta come vi dicevo una volta che i prezzi sulle 4 ore avessero tagliato la Kijun sarebbero scesi più o meno fino a questo cioè sarebbero dovuti scendere fino a questo livello qui ma livello pericoloso sarebbe stato questo ovvero l'incontro della lagging e i prezzi vi avevo anche detto che io non non so se sarei entrata andando a vedere dopo aver finito di girare quel video mi sono resa conto che il target era veramente minimo perché ormai ci troviamo qua quindi ho deciso di non entrare l'operazione poi è arrivata a target questo livello ha funzionato come supporto per qualche circa no pochi minuti e adesso sto di nuovo scendendo sono felice di non averlo preso si trattava veramente di pochi spiccioli non aveva senso contando che ho due movimenti molto ampi aperti e che vorrei dar loro più spazio sono le 9.20 di venerdì mattina e sono così molto addormentata ma ho già chiuso tutte le operazioni perché erano in ottimo guadagno perché oggi è venerdì perché come avevo già detto il target era abbastanza lontano per essere preso entro oggi e quindi ho deciso di chiudere tutto come ho già detto ottimo guadagno alcuni dei ragazzi che mi seguono sono rimasti dentro restringendo lo stop io oggi non ho la possibilità di seguire i mercati perché adesso mi vado a chiudere in palestra e poi andrò in università e poi finalmente weekend e nulla ho finito la settimana con un 120% un più 120% e sono veramente felicissima perché gli stop erano molto molto ridotti si trattava di operazioni che partivano con uno stop di 10 massimo 20 pip per un guadagno di circa 150-200 pip e questo mi rende veramente felice perché mi permette di avere grossi guadagni con poche perdite quindi sono veramente veramente felice dei risultati che stiamo ottenendo e del fatto che è un sistema sicuro perché appunto i guadagni le perdite ci sono tant'è che una perdita l'abbiamo anche avuta e ve la farò vedere dopo si poteva evitare? sì è stato un errore mio lo stop non l'ha preso l'abbiamo chiusa manualmente perché io appunto problema mio errore mio ho sbagliato l'entrata che ho anticipato perché come vi dicevo bisogna sempre aspettare i time frame più grandi quella operazione l'abbiamo ripresa abbiamo fatto il triplo quindi abbiamo recuperato la perdita più un guadagno e nulla sono veramente felice eccoci di nuovo sui grafici e il destino vuole che non appena abbiamo chiuso le operazioni il tutto poi sia crollato e quindi sono veramente veramente felice perché c'è è proprio stata una botta di culo lo ammetto pazzesca il crollo non so se sia dovuto a qualche notizia onestamente non ho controllato sicuramente è stato un ritorno a una semplice Kijun quindi nulla di grave ma ci avrebbe portato al livello di entrata quindi grazie Martina per una volta ne fai una giusta e decidi di uscire e decidi di uscire perché mi volevo prendere il venerdì libero quindi meno male che siamo usciti ci si poteva aspettare un ritorno alla Kijun o alla Tenkan sì perché no ci ha portato danni no perché in realtà poi ci avrebbe portato semplicemente al livello di di entrata adesso ha ripreso l'operazione ma noi non avremmo fatto il guadagno che abbiamo fatto quindi meno male che siamo usciti nel caso in cui fossimo rimasti dentro attenzione non avremmo avuto una perdita semplicemente avremmo poi lasciato aperta l'operazione per il weekend cosa che mi mette un po' di ansia ma infatti sono felice di aver fatto questa scelta di chiudere ne ho parlato anche con i ragazzi che mi seguono e abbiamo pensato che fosse meglio accontentarsi di quel guadagno lì piuttosto che andare a cercare un qualcos'altro soprattutto perché si tratta di un venerdì andiamo a vedere adesso che cosa è accaduto dunque ricordo questa è stata appunto l'entrata a rottura di questo livello qui noi siamo usciti qua questa è la sterlina yen siamo usciti in questo punto qui vedete che è stato proprio uno dei massimi dopodiché i prezzi sono crollati a questo punto qui io avrei aggiustato lo stop sì l'avrei fatto e ricordo che aggiustare lo stop se è fatto con criterio non è una cosa negativa perché soprattutto operando con Ichimoku ovviamente più si va avanti con l'operazione più le medie hanno dei valori diversi e se noi vogliamo rispettare questi valori dobbiamo adeguare lo stop a queste medie a questi valori altrimenti il tutto perde significato vi faccio subito un esempio entrate in questo livello in questo punto qui per rottura minima della Tenkan lo stop era posizionato a questo livello qui un prolungamento della Kijun e inoltre in questo punto qui i prezzi sarebbero rientrati nella nuvola tornando in questo simil canale e quindi avrei detto ok non ce la fa di nuovo possiamo chiudere l'operazione se andiamo a vedere sulle 4 ore a cosa corrispondeva a quel livello corrispondeva era leggermente più in su di un prolungamento della Tenkan Sen adesso con l'evoluzione del trade le medie si sono spostate quindi ovviamente sì gli stop saranno più vicini alla posizione ma c'è anche da tenere in conto diversi fattori perché in questo punto qui se io fossi ancora rimasta a mercato che cosa avrei fatto? sicuramente avrei aspettato la rottura della nuvola da parte della lagging una volta avvenuta in questo punto qui avrei probabilmente chiuso l'operazione ma prima di farlo mi sarei chiesta se ne valesse la pena e per farlo mi sarei spostata su un'ora e sarei andata a vedere che cosa stava accadendo mi sarei accorta che i prezzi stavano lottando contro una Kumo nonostante questa Kumo sia ancora parecchio rialzista quindi avrei spostato lo stop più in basso non a questo livello perché l'avrebbe toccato sicuramente l'avrei spostato a questo livello qua un altro prolungamento della Kumo lo stop non sarebbe stato preso per fortuna la posizione sarebbe rimontata segnale rialzista avuto dalla rottura della Kijun da parte dei prezzi si rimane in posizione e si va a posizionare lo stop a livello della della SSB della nuvola quindi in posizione salva noi adesso in questo momento saremmo leggermente in positivo e avremmo aspettato il target della prossima settimana ora noi siamo usciti dalla posizione cosa facciamo questo target lo abbandoniamo no assolutamente a apertura del mercato di domenica sera troveremo un'altra entrata possibilmente su mi è rimorto il mouse io non ci credo non funziona più allora cercheremo un'entrata sui 15 minuti oppure sui 5 addirittura in modo che l'entrata sia il più preciso possibile invece andiamo a vedere l'altra operazione che era sterlina CHF scusate mi sto usando il trackpad schiaccio il tasto destro in questo caso questa sarebbe stata la nostra entrata che vi ricordo parecchio lontana adesso non ricordo neanche più dove fosse noi siamo usciti qua in questo punto qua più o meno perché mi sono resa conto che ormai i prezzi erano bloccati all'interno di questo canale da ormai un giorno un giorno e mezzo circa e quindi ho deciso di uscire dopodichè c'è stata questa salita enorme e io ho detto cavolo potevamo rimanere dentro però mi sono rasserenata visto quello che è successo dopo qui lo stop non ci sarebbe stato preso e è una situazione molto simile all'altro grafico dove qui i prezzi perché hanno passato questa nuvola qua perché era veramente sottile gli si è aperto un barco come dico sempre stessa cosa che sta succedendo qui quindi anche questo asset questo trade che non ha preso il target che noi speravamo che si trova dove si trova si trova qui tenteremo di prenderlo ad apertura del mercato di domenica cercando un'entrata sui 5 minuti comunque su sterlina chf con chiusura manuale abbiamo fatto 86 pips e invece su sterlina yen ne abbiamo fatti no scusatemi su sto dicendo una cavolata su sterlina yen ne abbiamo fatti 86 mentre su sterlina chf ne abbiamo fatti meno 15 perché prima abbiamo aperto una posizione per colpa mia perché avevo visto un segnale sui 15 minuti ma non era confermato dall'ora come vi avevo già detto e quindi abbiamo perso 61 pips poi ne abbiamo recuperati 46 comunque la settimana finisce in positivo con un guadagno di 332 pips che è veramente fantastico perché mai ero riuscita a gestire così con calma e serenità una una settimana lavorativa e e nulla vi ricordo che per avere i miei segnali 24 ore su 24 tra virgolette ovviamente scusa la notte 5 giorni su 7 di mandarmi una mail o contattarmi in privato perché ci metteremo d'accordo e e nulla io vi lascio vi saluto vi auguro un buon weekend con questo video e ovviamente nel weekend ci sarà il video analisi ma sarà molto più semplice rispetto a questi qui e nulla buon venerdì sera godetevelo finalmente i mercati chiuderanno quindi pace e tranquillità a tutti e ci rivediamo in un prossimo video a tutti i Grazie a tutti